l'intelligenza artificiale può modificare il modo in cui ci facciamo strada nel mondo come lo vediamo e come gli altri ci vedono lo fa attraverso il processo decisionale presentandoti ad esempio opzioni che si adattano alle tue preferenze nel cibo nei film o indicandoti il percorso più efficace per raggiungere il luogo di lavoro e le notizie di stampa che compaiono nel tuo feed l'IA può anche supportare il processo decisionale fornendo un'analisi e una panoramica sistematica dei dati per decisioni giudiziarie strategie aziendali o per individuare i candidati più adatti per una nuova posizione lavorativa l'intelligenza artificiale fa tutto questo analizzando enormi quantità di dati e confrontandoli con esperienze precedenti molti di questi dati li forniamo liberamente noi stessi anche involontariamente durante le nostre attività quotidiane questi dati per citarne alcuni potrebbero indicare la nostra posizione attuale gli amici il lavoro l'umore i gusti alimentari i punti di vista politici gli spettacoli televisivi la sessualità lo stile di vita anche i dati che lasciamo inconsapevolmente sono registrati come ad esempio quando leggiamo qualcosa online visitiamo una pagina web o facciamo un clic su un annuncio e se accedi a una piattaforma di social media tramite un browser questo può essere collegato al tuo profilo personale tali informazioni possono essere utilizzate per creare profili previsionali su di te in modo che le aziende possano fornire pubblicità personalizzata o presentarsi articoli video campagne più vicine ai tuoi interessi ciò potrebbe permetterti di avere annuncio contenuti editoriali più pertinenti ma potrebbe anche generare silos di informazioni perché gli algoritmi che determinano i tuoi contenuti online non sono neutrali sono progettati per mantenere la tua attenzione il più a lungo possibile presentare i contenuti a cui è più probabile che tu reagisca in altre parole l'ia può modellare il modo in cui vedi il mondo all'intelligenza artificiale vengono fornite a volte istruzioni molto dirette su cosa analizzare e come in altri casi le si insegna come analizzare i dati in base ai feedback che noi stessi forniamo quindi può essere molto complesso capire come l'ia prende le sue decisioni ed è difficile accertare se ci sono pregiudizi se è raggiunto una conclusione errata o discriminante grazie